Con grande gioia, con grande gioia, ritorna a trovarci il nostro padre Gianluigi Pasquale, bentornato. Buonasera, pace e bene. Evviva. Ben ritrovati. Dell'ordine dei frati minori Cappuccini, docente alla Pontificia Università Lateranense. Sapete che cosa è successo? Che, poiché il padre Gianluigi è tanto, tanto, tanto seguito, sono stati in tanti a chiederci ma voi fate e raccontate tante storie di vocazione, ma la vocazione per questo straordinario padre Gianluigi Pasquale quando è arrivata? E allora noi abbiamo chiesto, prima di riprendere tutti i nostri percorsi, tutto quello che porteremo avanti durante l'anno, di partire da lei, esattamente da lei. Mi sento molto libero e al tempo stesso credo nella virtù dell'obbedienza. Sono le parole che ha confidato la nostra Natalia Castiglia, che lo segue sempre, e c'è il senso di un percorso importante, importante padre, che parte da dove? Sì, beh, innanzitutto penso che, ringrazio per questo invito di questo nuovo anno 2020, penso che questa storia possa di vocazione essere analogabile anche a tantissime altre storie di vocazione. Appunto parte, secondo me, per quello che mi è capitato, dal giorno della prima comunione, quando da piccolino ricevetti a otto anni Gesù per la prima volta, in corpo, sangue, anima e divinità. E come ha detto anche in televisione, forse proprio qui a TV 2000, un prelato di Santa Romana chiesa, ecco, quello sono io quando facevo la prima comunione, lì si sente una voce di Gesù, che è un grande desiderio di donare la vita agli altri. Il desiderio è così forte che supera anche altri eventuali progetti di vita che potrebbero essere auspicabili, come quello del matrimonio oppure di avere una particolare professione. Perché lì ci sente la vocina di Gesù, che appunto supera qualsiasi altro desiderio. Padre Gianluigi, da bambino, ed era noi per gentilissima concessione, ovviamente siamo entrati in possesso di queste fotografie che così vi presentiamo qui all'Ora Solare, era un bambino, bambino come tutti i bambini, un bambino delizioso innanzitutto. E birichino. E birichino ovviamente, ma con, e soprattutto identico come oggi, perché lei è assolutamente uguale, è rimasto uguale, con una famiglia dove i frati francescani erano, tra virgolette, di casa. Erano di casa, sì. Allora, beh, in questa foto si vede quando ho fatto una gita in una montagna che si chiama Carega, che in dialetto veneto vuol dire sedia, con mio papà e mia mamma. I frati erano di casa perché sia da parte della mamma, che si vede nella foto, c'erano sempre dei frati francescani che mi ricordo venivano scalzi, andavano messi in bicicletta. Io ero un po' attirato della loro semplicità. E poi mi portavano a casa sempre regali, come faccio un po' anche io adesso con i miei nipotini. Esatto, a quello volevo dire. E anche da parte di mio papà attualmente ci sono ancora dei frati pasquale di cognome francescani. E così credo che oltre al desiderio della comunione, il buon Dio, come capita per tutti, abbia seminato altri sementi profumati verso l'attrazione della figura meravigliosa di San Francesco d'Assisi. E allora cominciamo a fare una sorta di appello in questa vita di vocazione, in questa vocazione che correttamente padre Gianluigi Pasquale fa iniziare, non partire, ma comunque dal giorno della prima comunione. Don Antonio Basso. Sì, allora approfitto per dire proprio che Don Antonio Basso è stato per me il parroco papà per antonomasia. Non perché io non avessi il papà, anzi mi ha voluto bene il papà Siglio, ma perché era quel sacerdote che si poteva trovare sempre che quando noi combinavamo qualche maracchella era sempre quello che accomodava le situazioni, stava tutti i giorni dell'anno in parrocchia, ecco allora i sacerdoti stavano anche durante l'estate, ma soprattutto mi portava in giro con lui, con l'autobianchi, ad andare all'acquesto di stoffe per preparare la festa patronale, quella che da noi si chiamava Sagra. Ecco io lì ho visto veramente cos'è un sacerdote, a discapito di cose che potrebbero dei scenari attuali, cioè un uomo che si dona agli altri totalmente per Dio. Lo consideravo, cioè con lui mi sentivo in famiglia, protetto, amato e soprattutto anche un po' osservato, perché lui mi diceva, ma non è che forse tu vorresti entrare in seminario? Ecco ed è qui un po' che si innesta il fatto che io volevo diventare sacerdote di Ocesano e che invece mi trovo vestito con l'abito francescano. Padre Sisto Zarpellon. Ecco. Chi è stato? Buonanima, chi è andato in cielo? Padre Sisto Zarpellon è stato appunto quello che ha creato il differenziale. A proposito, sia a Don Antonio Basso che a Padre Sisto ho dedicato rispettivamente due libri. Forse lo farò anche a Paola Saluzzi più avanti. Adesso questo è proprio, perché poi è meravigliosamente anche burlone, anche burlone Padre Gianluigi Pasquale. Non si sa mai. Troppo onore, no, no, per carità sono io, anzi che sono lettrice, attenta, dei suoi libri, ma torniamo. Era il 17 giugno del 1983, il parroco successore di Don Antonio, Don Carlo Corriele, che ci sta ascoltando sicuramente in questo momento perché è ancora vivente, viene nel mio piccolo paesino a predicare. Io vedo un bel frate cappuccino con la barba bianca. Avendo letto i Promessi Sposi ho detto ma i cappuccini sono istinti e invece questo è un vero cappuccino. E tenne un'omelia che non aveva assolutamente a che fare con le Sacre Scritture, cioè con il Vangelo. Quindi o non si era preparato o stava succedendo qualcosa. Perché sa Paola cosa raccontò? Padre Sisto raccontò la storia della sua vocazione. E io con il mio maglioncino rosso, anche se mi piace il celeste, lo ascoltavo così perché lui raccontava che Gesù chiama per andare a fare i missionari. E dopo l'omelia, ecco questo mi colpì molto, si insinocchiò con una umiltà francescana totale davanti al tabernacolo per ringraziare il Signore di aver potuto predicare la parola di Dio. Lì in quel momento io pensai questo è quel frate con il quale io voglio parlare e di cui voglio seguire lo stile di vita. E subito dopo andai in sacristia e gli chiese un appuntamento. Il 6 luglio del 1983 il nostro padre Gianluigi Pasquale entra nel seminario Serafico, Madonna dell'Olmo a Tiene. Ed è bello pensare che questa strada, questa luce che ha illuminato la sua strada, quest'ora solare, quest'ora solare che è scattata, grazie padre, esattamente in quell'istante, sia collegata a questa, non sia tutta dentro quell'omelia, però sicuramente tutto il vissuto precedente, tutto l'incontro con un parroco che era sempre disponibile, il vivere in una famiglia che era cara e buona, abbia però prodotto questo ingresso, questo primo passo che lei ha fatto per entrare al Serafico. E poi da lì non è più uscito, diciamo. Certo. Ha girato il mondo in realtà, ma non è più uscito da quella convinzione. Sì, da quel nido. Lei ha detto bene, adesso lei mi ha fatto venire in mente, ma si vede che lei, Paola, è molto più preparata di me. La vocazione nasce, ecco questo mi stava sfuggendo, nelle ginocchia della mamma. Ed è vero perché la mamma, abbiamo appena celebrato il Natale, mi faceva fare il presepio. Comunque tornando a Tiene, io desideravo così tanto, questo 6 luglio, entrare, che di fatto quando entrai, mi ricordo che la sera giocammo con il tiro alla fune. Sì. E poi due giorni dopo andammo in montagna per fare il cosiddetto camposcuola vocazionale, cioè per arrivare a quella tappa di sto firmando la pergamena dei tre voti perpetui di povertà, castità e obbedienza, per arrivare a quella tappa che richiede un certo discernimento. Dopo quasi 15 giorni, il formatore, diciamo così, il frate che mi assisteva, mi disse ma tu Gianluigi, avevo 16 anni, pensi, non hai mai pensato di telefonare alla mamma? Ora non c'erano i cellulari, c'erano i telefoni SIP. Sì, quelli con la rotella, no? Con la rotella, sì, sì. Ecco, io ho detto no. E lui mi disse ma guarda che hai anche tu una mamma. Allora andammo dalla montagna da 1700 metri fino al primo posto telefonico pubblico con i gettoni SIP e telefonai a mia mamma che era in vacanza. Pensi se non esiste Dio. Telefonai alla reception dell'hotel dove si trovava mia mamma e non c'era il portiere. Mia mamma non era andata in quel pomeriggio a passeggiare e sentiva squillare, squillare, squillare questo telefono e si decise ad alzare la cornetta. Io riconobbi, secondo lei, che cosa? La voce della mamma e gli dissi ciao mamma sono Gianluigi e lei cominciò a piacere. No, no, quello è proprio un caso perfetto. Eh sì perché non doveva alzare la cornetta e sicuramente anche io dovevo chiamarla prima. Probabilmente e invece lei era così preso da tutto quello che stava facendo da aver quasi non certo posto in secondo piano la mamma perché la sua famiglia è una famiglia con una storia tanto bella forse lei può dirmi tanto semplice ma tanto straordinaria però proprio caso, non era il caso ha voluto che alzasse il telefono sua mamma. Voi pensate che il papà di padre Gianluigi Pasquale ha preso una casa, l'ha ristrutturata, ha messo tutto il suo impegno per poi donarla a chi? Ai frati, è l'eremo San Leopoldo Mandic e l'anno scorso mi ricordo che qui a Lora Solare abbiamo ottenuto una trasmissione parlando di San Leopoldo Mandic perché mio padre, essendo io l'unico maschio, non voleva che io andassi dai frati, pur essendo lui molto credente e cattolico, ma voleva che io diventassi un ingegnere edile, lui lavorava in una impresa edile. Poi si vede scappare via questo sedicenne e entrare dai frati e quando mi portò quel famoso 6 luglio in seminario mia mamma mi accompagnò dentro il convento per controllare, sa che cosa? C'è sempre Lora Solare di mezzo, se c'era il termosifone perché non voleva che il figlio patisse il freddo durante il termosifone. Che tenerezza, la mamma, mettiti la maglia pesante. A proposito, per chi ci sta ascoltando, siccome tutti abbiamo le mamme, c'è quella parte del nostro corpo che è l'ombelico che dice che il legame con la nostra mamma rimane da frati e da senza frati. Ha ragione, ha ragione. E mio papà a termino, mio papà non voleva entrare, non voleva entrare mio papà perché stava perdendo il suo maschietto, però dopo due anni regalò questo eremo San Leopoldo ai frati. E questa è la famiglia di padre Gianluigi Pasquale, per capirci. 1993 viene ordinato sacerdote, quindi lei può dare, può impartire i sacramenti. Celebrava la Santa Messa, sì. Padre Gianluigi è diventato prima preside, poi professore, dal 2008, chiamato da Monsignor Fisichella, che salutiamo, alla Pontificio Università Lateranense, dove tuttora insegna. Padre Gianluigi Pasquale è volato dall'altra parte del mondo, è andato ad imparare non soltanto perfettamente, tra le altre lingue, parla tedesco correntemente, inglese perfettamente, ma è andato ad imparare comunicazione. Questa è una cosa molto bella che lei ha fatto, perché è un'arma buona in più. Sì, forse sì, esatto, forse si può dire, io ho sempre obbedito ai superiori, probabilmente loro avevano intravisto in me una specie di predisposizione, non solo agli studi in generale, di teologia e filosofia, ma anche di apprendimento delle lingue. E come l'ho detto in altre occasioni, sono addirittura, non sono mandato a Oxford, oppure anche in Germania, ho passato quasi tutte le estate all'estero per impratichirmi nelle lingue, però dopo mi hanno chiesto di tornare a conto perché ho dovuto fare da traduttore per l'ordine. Eh, certo. Ecco, ma anche per esempio fino alla Universal Studio di San Francisco, dove un po' ho imparato, e ringrazio i superiori, questa capacità che è importantissima oggi della massmedialità, cioè di saper comunicare il Vangelo e la buona notizia, soprattutto attraverso la televisione che tutti guardiamo. E allora, per oggi, noi di solito ci alziamo sempre in piedi e abbracciamolo, no, no. Lo lasciamo qui, lo inquadriamo bene. Padre Gianluigi Pasquale. Questa è la sua storia, questa è la sua vocazione, questa è l'ora solare che splende particolarmente quando padre Gianluigi è qui in studio con noi. Grazie di essere stato in nostra compagnia e dal prossimo appuntamento riprenderemo, come sempre, la recita della Coloncina della Divina Misericordia. Ci vediamo domani, ore 14. Grazie a tutti. Bravo, 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 bravo. Brava lei, brava lei.